Alzati! Ok! Ui! Yes! E vabbè, ma che è un centro commerciale questo? Che be... C'è il treno! Lo possiamo prendere? Prendiamo il treno! No, aspetta, aspetta! Una cosa alla volta! Cerchiamo di capire queste scritte in russo! E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki! E io sono Stef, e che si giochiamo? Hello Nekbar! E finalmente siamo qui con l'Alfa 4! Ci hanno fatto attendere ben 5 mesi, ma ce l'abbiamo fatta e siamo qui prontissimi a giocarla! Esattamente! Ci siamo preparati ieri guardando la live di Espy Giochi, ci siamo proprio infiltrati per cercare... Nella sua live! ...di capire un pochettino cosa succederà in questa Alfa. E ragazzi, sembra infinita, cioè... Io non so quante ore durerà... Non so quanto ci metteremo a finire questa nuova casa, ma finalmente... Oltretutto, nella live di Espy guardavamo le cose con un occhio simbolo, no? Tipo per ambientarci, ma non avere troppi spoiler! È stato difficilissimo, però molto divertente! Ci siamo, ci siamo! Una porta! Io anche l'ho visto, quindi non so cosa ci sarà, non so bene come sarà... Per ora è una porta, per ora! Vediamo, ok! Uh! Uh, l'hai vista? Cosa sembra? Una specie di fabbrica! Una scuola, una fabbrica, però più che altro... La ventola... Cioè, è sopra la casa quel posto, eh! Sì, sì, sì! Io l'ho visto, è sopra la casa! Quindi è già qualcosa di strano! Questa è la nostra casetta e l'unica cosa che so è che... Chiusa! Proprio niente! Questa volta... Questa volta non abbiamo accesso alla nostra stessa calda! Quindi controlliamo rapidamente... O forse magari si sblocca con qualche... Scusa, perché c'è un telefono qua? Non lo so! Pronto! Non è normale, però non me lo fa acchiappare! Non iniziare a farlo arrabbiare, dai! Ti devo spaccare una finestra subito! Ma poi ci rende la vita impossibile non iniziare a farlo arrabbiare! Ma è un saluto tra vicini, Fede! Lo so che tu non sei di queste zone e non sai come ci si saluta, però guarda! Magari in Russia si lanciano... Ok! Si lanciano le padelle nelle finestre per dare il benvenuto al nuovo vicino appena è arrivato! Ma guarda, neanche si è arrabbiato! Sta andando giusto a controllare un po'! Che fa, che fa! E mentre lui va a controllare la finestra, noi passiamo da questa parte ed iniziamo ad esplorare! Allora, l'inizio dovrebbe essere molto simile all'Alfa 2! Ok, per entrare... Aiuto, aiuto, aiuto! Allora, colla! Ce l'ho fatta? No, mi sa che me l'ha tirata anche lui! Corri piccolo Steph! Ma come ti ritira la colla d'osso? Corri piccolo Steph! Corri! Tutto a posto! Ciao! Ti tiro anche i binocoli! No, non devi tirare che quelli ci servono! Vorrei un attimino spegnere il generatore! Eh sì, prima cosa da fare gli stacchiamo la corrente! Mi sembra sempre una buona idea! Ok! Ok, adesso lui non vedrà più! E adesso che fai senza corrente? Vediamo se questa porta è aperta! No, bene così! Questa? Eh, questa? No, bene così! Tutte chiuse! Allora, qua c'è della colla! Va, ce la prendiamo! Sì, riprenditela! Che fa sempre comodo! È ovvio, certo! Poi voglio una scatolone per provare magari ad entrare da qui! Eh sì! Uh! Cos'è? Eh, Fede, cosa c'è scritto? Tu che conosci il russo! Dai, dai, traduci! Premere questo bottone! Ma è una leva! Premere questa leva! Eh, ho letto male, scusa! Cioè, non è capita, capita! Era un po' buia la scritta! Sì, è ragione! Non è che io non capisco! Comunque, se qualcuno è russo traducetecello! Sono curiosa! Ui! Sono curiosa! No! Troppo grande! Uno tra i consolini sa il russo, oppure è proprio russo e ci può dare una mano! Va bene, va bene, va bene! Oh no, 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 no! Vicino, 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 vicino! Da dove esce? Vicino! Allora, questa porta... Aiuto! Puoi vedere? È sempre più... Sì, l'ha riattaccata! Non ci credo! È sempre più pazzo, comunque! Ogni alfa che esce, lui diventa più pazzo! Più pazzo! Allora, osserviamolo! Osserviamo la sua pazia! Perché c'è una torcia in mano? Ah, perché forse gliela dobbiamo rubare dalle mani? Eh, in effetti non abbiamo una torcia di partenza, quindi sì, 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 molto probabile che gliela dobbiamo rubare dalle mani! Non ci tengo a farlo per adesso! Volevo dire che, secondo me, quello pulsante lì è già qualcosa di interessante! Magari vediamo al volo anche un po' la casa! Ascolta, ma abbiamo controllato se abbiamo qualcosa di particolare sia nel nostro cortile che nel suo! Perché è pieno di scatoloni lì fuori! Eh, no, in effetti ancora non ho guardato! Però, allora, togliamo subito questa sedia! Sì, sì, sì! Così possiamo passare anche di lì! Allora, aspetta, questo pulsante io lo premo anche se non so cosa farà! Poi seguiamo il filo da fuori e vediamo! Poi vediamo, in cucina... Ok! Ok, pensavo fosse il vicino e mettere la manichina! Uh! No, non c'è! Ma è vicino! Ok, no, no, tutto a posto! Cioè, il vicino è vicino! Fer è tutto a posto! Il vicino è vicino! E mi è uscita sta cosa terribile che ti devo dire! Fer è, dobbiamo trovare qualcosa in cucina! Dai, un oggetto utile che ci fa già subito a partire col voto! Vai, 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 vai! Prendi la pesca! Yes! Ok, ottimo, ottimo! Bene, bene, bene! Buona nel frigo? Frigo! Ma, ma... Uh! Ok, quindi è qualcosa... Ok! Ciao vicino, ciao, sì, sì! È qualcosa di particolare! È qualcosa di particolare! Dai che adesso ce la facciamo a prendere la leva! Dai che ce la facciamo! Dai, su, non ci possiamo bloccare così! Dai, però! Ma c'eri! Ma che sfortuna, guarda! Non è la mia giornata, Fer! Fer, mi ci gioco tutto! Che ora la prendo! Ok, vai! Uopla! Un po' più in alto, ho capito? Un po' più in alto il tiro! Non mi sta piacendo questo gioco! Non mi sta piacendo per niente! Allora, questo cartone lo possiamo... Eh, sì, questo è perfetto! Dai, questo non è più grande, dovrebbe passarci! Quindi... Non lo so, eh! Secondo me non ci passa, però ormai ho finito gli oggetti da tirare! Ci tocca andare a rubarli a casa del vicino! Vedi? Ho una scatola di latte da tirare! Velocissimo! Senza neanche rifletterci! Ecco, Steph! Sì! Allora! Allora, cosa ha aperto sta leva? Non lo so! Ah, bene! Sinceramente non lo so! Io mi ce... Allora, tu pensi che potesse essere utile, ma in realtà io mi ce l'ho fissato solo perché amo le leve! Non so se era utile o se dovevamo farlo, Fere! L'ho fatto giusto perché era una leva! Cioè, e abbiamo perso tutti questi minuti sotto questo tempo! Tutti i figli di Steph e succedono queste cose! Allora, se era da premere così sicuramente qualcosa ci ha aperto! Ma magari non serviva adesso! No, ne sono sicura, secondo me! Rimane fiduciosa, Fere! Ci ha messo la trappola! Perfetto! Spazio, 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 spazio! Scappo! Aiuto! Qua noi dovevamo andare in realtà, però non te lo volevo dire! Bisogna rifare il parkour qui e superare di nuovo questo! No, ma l'hanno tenuto uguale! E come sai che dobbiamo andare qua? Hoppla! Beh, perché è uguale alla vecchia versione, quindi questo quanto me lo aveva fatto! Questo non lo premerei perché altrimenti poi il vicino può passare! Un bel vaso con i fiori! Un mobiletto vuoto! Della colla! E questo ombrellino però è carino! Questo me lo porto via! Guarda, lo sto aprendo! Mary Poppies! Mary Poppies! Non c'è bisogno che canti, grazie! Mary Poppies! Vai, andiamo! Allora, vediamo un pochettino! Allora, abbiamo quattro stanze! Questa è chiusa! Questa è chiusa! Chiave, ok! Ma è tutto chiuso! È tutto chiuso, porca miseria! Allora questa è aperta! Ok, sì! Ah, ti ricordi questo salto? Sì, però non voglio farlo con un ombrello in mano, va bene! Allora... Ma perché l'hai fatto? Perché hanno messo questa cosa, vedi? Ah, non l'avevo vista! Per renderlo un po' più semplice! Ok! Ah! Premi! Non ci arrivo! Eh, dobbiamo ritirare qualcosa! Allora, c'è una chiave blu e mi piace il blu! Un'altra leva e mi piacciono le leve! E poi, lì sotto mi sembra che ci sia qualcos'altro! Sì! Però non sono sicuro! Anche io ho qualcosa di strano, ma non... Anche lì... Boh! Eh, non capisco cosa sono saltando... Allora, abbiamo qualcosa che possiamo... Il quadro! Tirare! Tira il quadro! Eh, sì, però mi devo togliere un oggetto! Aspetta, lì, 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 dei mattoni! Questi mattoncini, li puoi prendere? Ah! Ma scusa, posso tirare questo? Tanto non ce ne facciamo nulla al momento! Uh! Cosa? Ferre, dov'è? Che è successo? Praticamente è partito tipo qualcosa e ce l'ha fatto alzare! Ok! Vedi che siamo in un altro posto? Oddio, ma... Che figo! Siamo sopra la... Dove abbiamo scavalcato! Che trip! Che cosa assurda! Allora, allora, calmi! Di qui non possiamo salire! Di qui ci buttiamo giù, quindi non mi sembra una buona idea! La porta! Questa porta è aperta? Ma porca miseria, è tutto chiuso! E sentiamo di qui... La facci la porta! Aspettaci la finestra! Ok! Vado? Vai! Sì! Ma porca miseria! Eh... Usiamo la torcia, dai! Non ho altro per suonare le finestre! Siamo seri? Ragazzi, siamo seri? Quella era... Non vorrei planare con l'ombrello! E ci stavo pensando! Ti vedo con questo ombrelino aperto! Ma non è che posso anche fare parkour qui? No, forse... Sì che puoi! Dai, non è messa a casa! Perché vedi che lì sopra ci sono delle scale? Sì, non è messa a casa! Allora, aspetta! Ui! Non cadere! Ok! Ma l'hanno reso per i master pro del parkour? Esatto, esatto! Hanno visto i miei istanti di GTA e mi hanno fatto delle prove! Ah, sì, hanno detto, dai, questo Steph lo farà così, capito? E invece no! E invece no! Io non riesco a ricordarmi il tasto per le serrature, perché c'era! Voglio vedere cosa c'è qua dentro, sono curioso! Oh, mi sono ricordato il tasto! Allora, sembra... Lì c'è ok la sedia che blocca una porta, però sembra come se fosse un posto da dove stai salendo e continui a salire! Quindi dei piani della casa! Qua sotto non possiamo scendere! Ok! Quindi puoi scegliere tra due cose! O provo a fare questo salto planando con l'ombrello! Oppure provo a superare il tetto e andare da la tua parte! Guarda un attimo verso l'alto! Volevo vedere cosa ci può essere! I binari del treno! Quindi? Cosa vuoi? No, fai il salto! Ho il balconcino! Fai il salto! Il balconcino però? Ma ti sei rovinato il salto! Oddio, no, apri tutto! C'era il balconcino, sono sceso di proposito! In effetti, sì! Allora, ok, siamo sopra! Allora, la casa! Ok, ok! Vediamo a che piano! Ah! Deludente! Ok! Capito dove siamo? Sì, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito! Ui! Ok! Però abbiamo tolto... Ah no, aspetta! Fede, siamo in un altro posto! What? Praticamente, a noi, vedi questo pavimento? Ah, ci ho portato di sopra però, sì, sì! Si è tolto questo muro! Esatto, esatto, ho capito! E vabbè, ma quante stante ci sono? Allora, un attimo! Togliamo tutte le sedie prima di tutto! Cioè, ma come fa il vicino a non perdersi all'interno della sua casa? Secondo me è una mappa! Io mi sto già perdendo! Ha una mappa per muoversi! Ecco! Cos'è, una calamita? Sì, per prenderci la chiave! Oh! Oh oh! Vai! Bene così! Bravissimi! Allora, aspetta che la prendo però la chiave che mi sembra importante! Non la parla in terra! Stiamo andando bene! Calamitina! Chiave! Scoperto già un po' di stanze! Bravissimi! Allora, vedi, la live di ESP è stata utilissima! Anche se in realtà questo pezzo non l'avevo visto, quindi è tutto improvvisato! No, io te l'ho detto! Guarda tu con un occhio sì o no, quindi ascoltavo! Ma ti conviene riprenderti i binocoli, non credi? Eh, ma ce li esco da qua! Dato che sono lì sotto! Non ci arrivo! Aspetta, da qui forse? Dai, lascio stare se non ci riesco! No, 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 non ci riesco! Li ritroviamo, li ritroviamo! Perché questa leva, secondo me, si può ripremere! Però è soltanto una teoria, quindi per ora lascio perdere! Allora, questa porta è sempre di qui! Un attimo, un attimo! Fammi fare una cosa alla volta! Qua, se io premo, si apre! Uh! Sì! Però poi non posso ritornare qui dentro! Eh sì, è ovvio! Ah, ok, ok, ok! Allora per ora no! In alto c'è una porta! Questa porta! What? Ma dove stiamo finendo? Ma quanto è gigante! Questa è chiusa, ok! E poi la chiave è blu, dove sono i denti? È chiusa, ok! Beh, la chiave è blu, prima o poi ci servirà, ma non ora! Dicevo, in quella porta! Lì, secondo me, ci possiamo arrampicare, è ok! Fammi vedere, perlomeno... Sì, la posso aprire! Vai, vai, vai! Aspetta! Fammi fare... Ok, vabbè, stai facendo... Ta! Ok, guarda cosa ti faccio, eh! Ta! Ta! E quindi, se ho fatto bene i miei calcoli... Ta! Oh! Bravissimo! Così non ci chiudiamo e non ci escludiamo di poter tornare lì... Non ci chiudiamo all'interno! Però ci esplodiamo anche questo posto al volo! Ok, un altro bagno... Qua c'è qualcosa... Vuoto! Ok... E questa porta... Chiusa? Sì! Ok, ok, ok... Dannazione! Non lo so, non lo so se magari hanno fatto una casa talmente grande... Quindi per confonderti ci sono anche stanze un po', capito? Sì! Un po' vuote che ti fanno girare e scervellare sulle cose... Non lo so, non lo so! Ta! Ta! Vai! Ciao, puoi fare! Ma perché se no... In mezzo in ginocchio, mezzo no? Alzati! Ok! Ui! Yes! E vabbè, ma che è un centro commerciale questo? Che bello! C'è il treno! Lo possiamo prendere? Prendiamo il treno! No, aspetta, aspetta! Una cosa alla volta! Cerchiamo di capire queste scritte in russo! E vediamo cosa vogliono dire e cerchiamo di capire che dobbiamo fare! Allora, stanno dicendo... Sì... Ok, capito tutto! Ok, ok, perfetto! Sì, sì, andiamo! Allora, leva sta sedia! Ui! Vediamo dove ci... Ci colleghiamo! A sala macchine! Sala macchine! No, non ti lanciare! Non ti lanciare! Però è strano! Fai da bravo! Allora... Allora, è una sala macchine! Ti prego, non chiedermi di toccare questi pulsanti! Schiacciali tutti! No, Ferre, non me la sento! Schiacciali tutti! Azionino! Quello è un bottone? Sì! Aziona tutte le leve! No, no! Si fa così! Allora, facciamo un passo alla volta! So che vuoi prendere il trenino, però un attimino vediamo tutto quello che c'è e poi prendiamo il trenino! Allora, ascolta me! Sì! Ascolta me! Vai sulle scale mobile! Esatto! Ma non si muovono? Ma che no! E vabbè, ma che disastro! Credo che di qui non possiamo passare! Però, qua... Cosa succede se io attivo questo? Nulla, forse perché è bloccato dai troppi oggetti? Potrebbe essere! Potrebbe essere! Ok! Sì, ma secondo me bisogna dare corrente a qualcosa! Capito? Cioè, quella sala macchine non è solo per il treno, secondo me! Poi, boh, boh, sto provando a supporre, non lo so! Allora, dobbiamo... Secondo me è sempre il bottone rosso gigante! No? Allora, leva! Affacciati! Uh! È partito! E che cavolo! E ma senza di noi! Aspetta, Ferre, lo inseguo! No, no! Ferre, lo inseguo! Stanno volando così! Sì, perché c'erano barriere per bloccarlo, tipo... Ferre, 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 guarda, si è fermato! No, sta ripartendo! Sta buttando giù metà casa! Guarda che bello dall'alto tutto! Allora, stanno succedendo troppe cose insieme! Esatto! Qua c'è un generatore che risulta acceso delle scale... Infinite! Eh, mamma mia! Infinite! Ok, da questa parte... Ho paura di essere investita dal treno, sinceramente! Anch'io, anch'io, anch'io! Ok, e qua sotto cosa c'è? Bene! Mamma mia! Questo non sarà un oggetto messo qui a caso, no? Prenditelo! Non posso, non posso prenderlo! Allora, un oggetto messo lì a casa! Esatto! Bello, bello, grazie! Il soffitto! Il soffitto che avevamo prima! Volevo proprio andare di qui, grazie mille! Ma che casa! Gentili! Che casa! E invece di qui? Ah, sì! Eh sì, qua è molto meglio, Ferre! Probabilmente lo sta ancora costruendo questo piano, eh! Dai, non lo criticare! Non lo criticare, però secondo me è ancora in costruzione! Allora, vediamo un attimo! Dove porta? Eh, non si capisce molto! Io proverei a scendere le scale, queste qua! Dici? Ma aspetta! È un ascensore! Ah, è un ascensore! Ok! Aspetta! No, verso l'alto? Non mi fa andare verso l'alto! Forse... No! Sì, sì che ti ci fai... No, 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 no! Sto precipitando! Abbiamo scoperto che in questa versione si muore pure! Ottimo! Ottimo, 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 ottimo! Cavolo, era un po' strano con le scale! Non proprio al meglio, non proprio al meglio! Però guarda, il trenino è rimasto attivo! Cosa molto particolare ed interessante! No, ma adesso tu me lo devi far prendere! Voglio fare il giro della... Ci fermiamo così, Ferre! No, dai! Lascia l'ip a te e i consolini con il trenino! No, dai! Sì, 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 sì! È giusto così! Allora, abbiamo scoperto troppe cose! Lo sai che è un miracolo! Teniamo l'episodio andato bene! Non roviniamoci alla fine! Ma almeno un giro nemmeno! No, Ferre! Così abbiamo un ep 1 in cui per una volta scopriamo parecchie cose e andiamo bene! Non roviniamolo, ok? Cioè, l'ep 2 andrà malissimo! Cioè, l'ep 2 andrà malissimo! Lo so che mi odi, però lo faccio per il tuo bene! Ok? Così i consolini questa volta non ci prenderanno in giro! Dai, direi che ci possiamo fermare così! Davvero, 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 davvero carina questa alfa! Ma proprio molto! Sì, sì! Io mi sto infogando un sacco! No, per fortuna, cioè, in cinque mesi almeno hanno aggiunto tantissime cose! Molte cose da esplorare! La casa mi sembra anche praticamente tutta esplorabile! Esatto! A differenza dell'Alfa 2! A me ispira! 2, mi pare, che praticamente non potevi andare in alto dove c'era il trenino e tutte queste cose! Quindi mi sembra proprio interamente esplorabile! Quindi abbiamo ancora tante, tante cose da fare, da scoprire! Esattamente, davvero fantastica! Mi sono divertito un sacco! Sicuramente faremo anche il secondo episodio! E probabilmente ci servirà anche un terzo episodio per finire il gioco! O quantomeno scoprire un pochettino tutto! Dopodiché vedremo un po' se fare qualche altro episodio particolare o meno! Decideremo insieme a voi! Quindi commenti, sandaggino, likes e tutto quello che serve a supportare questa miniserie che ci sarà! E ci fermiamo così! Bene ragazzi, se ci piace così, se ci lasciateci un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!